E' stato messo agli arresti domiciliari l'imprenditore terramano Elio Di Blasio, 71enne, titolare della ditta di fuochi d'artificio di Caprafico, dove quasi un anno fa ci fu un incidente mortale che costò la vita ad un operaio e per cui, a fine ottobre, la prefettura dispose la revoca dei decreti di autorizzazione. Nel corso di un nuovo controllo fatto dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, presente anche la polizia amministrativa e un consulente della procura, nella ditta alle porte di Teramo sono stati trovati oltre 120 kg di fuochi d'artificio di vario tipo e della polvere ipirica, materiale esplodente che, secondo l'accusa, sarebbe stato detenuto illegalmente, scultato in vari cassoni in alcune pertinenze dello stabilimento. Sempre secondo l'accusa dell'autorità giudiziaria si tratta di materiale che risulta non tracciato e detenuto con modalità di conservazione ritenuta altamente pericolose per la pubblica incolumità. Per questo la procura ha contestato la violazione della legge speciale sulla detenzione esplosiva, che punisce con la reclusione da un anno a otto anni e con la multa da 3.000-20.000 euro chiunque detenga illegalmente esplosivi a qualsiasi titolo. Nell'inchiesta per omicidio colposo, quella per la morte dell'operaio, sono indagati Di Blasi e un altro rappresentante dell'azienda. A febbraio dello scorso anno, nell'area esterna della ditta di fuochi d'artificio di Caprafico, ci fu la violenta esplosione, in cui rimase ucciso il 62enne dipendente Dino Trignani e ferito un altro dipendente di 43 anni. I dipendenti erano un'area di prova a circa 800 metri dallo stabile della ditta, che veniva usata sia per le prove di nuovi prodotti e sia per l'eliminazione degli scarti. Il primo ne intento in alcune operazioni, mentre il secondo, magazziniere, era di passaggio. Il primo ne intento in alcune operazioni, mentre il secondo, magazziniere, era di passaggio. Il primo ne intento in alcune.